10 anni, 100 numeri, nuovo formato. Sta per festeggiare in grande il prestigioso traguardo la rivista della diocesi di Nocera, inferiore Sarno, insieme. Nuova veste grafica ed un approfondimento dedicato all'agro. Per la ricorrenza è prevista la diffusione straordinaria di 5.000 copie in tutte le parrocchie. Festa grande il prossimo 19 marzo. Dopo la celebrazione eucaristica nella Cattedrale Nocerina per la Sollenità di San Giuseppe, festa onomastica del Vescovo Giudice, nei locali della redazione sarà presentato il nuovo spot della rivista accompagnato dal taglio della torta. È una festa speciale perché sono 10 anni che insieme è il giornale della nostra diocese e della nostra terra dell'agro. Ed è un compleanno in cui c'è diritto alla fotografia di gruppo e come si sa in una fotografia non sempre si viene bene. C'è un focus un po' su varie realtà, non con la pretesa di essere esaustivi ma appunto uno sguardo su vari ambiti e quindi il punto sulla situazione dei trasporti, della spazzatura, dei rifiuti che ancora non riescono ad essere una risorsa per il nostro territorio e la problematica del lavoro che è sempre meno e che mette in ginocchio tante famiglie e anche il calo demografico, ecco si fanno meno figli anche nel nostro sud. Un formato nuovo nella veste grafica ma anche nei contenuti, è un formato più piccolo, un magazine che appunto si presta ad essere al passo coi tempi e domenica ci sarà un'offerta speciale per tutti i nostri lettori perché in sette bar convenzionati si potrà gustare un caffè e leggere insieme a soltanto un euro. Il 19 marzo c'è poi una festa, un momento celebrativo che sarà vissuto qui in redazione presso il Palazzo Vescovile di Noceare Inferiore. Sì, avremo la fortuna di gioire e festeggiare insieme al nostro Vescovo Giuseppe nel giorno della sua festa onomastica e di festeggiare insieme e di tagliare il traguardo del centesimo numero. Ecco, festeggeremo qui in questi locali proprio per dire la bellezza di questo lavoro che facciamo ogni giorno.